Quello che io definirei la musica è una distribuzione di qualità nel tempo che possono avere naturalmente tantissime nuance a queste qualità, compreso il silenzio. Dobbiamo creare uno spazio definitivo, un luogo architettonico dove mantenere tutto questo che nel frattempo è diventata una delle raccolte, collezioni più ricche del mondo perché documenta tante arti diverse, perché ha raccolto tante voci diverse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.